Ancora controlli in centro storico da parte della sezione volanti al quartiere Provvidenza. Sono state identificate 43 persone, controllati 19 mezzi, vigilati 21 soggetti, sottoposti a misure anticrimine, come gli arresti domiciliari e i sorvegliati speciali. Eseguite 7 perquisizioni personali, sequestrati 12 grammi di hashish e marijuana, trovate addosso a due stranieri. I due uomini sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze e stufe facenti. Sono stati eseguiti controlli con le unità cinofile della Polizia di Stato anche in due istituti scolastici del capoluogo con esito negativo.